Zona Pulo, dopo la Pasquetta l'abbiamo trovata così. E adesso, questa mattina, l'amministrazione ha provveduto a uno sgombro dell'immondizia, dei rifiuti. Sì, dei rifiuti. Un'ulteriore spesa che graverà sulle tasche dei miei concittadini. Abbiamo provveduto con una gara a farla ripulire, quindi questa mattina sono lì ancora presenti e il luogo del Pulo, che è importante per noi come una vetrina per il turismo, sarà nuovamente ripulita. Ma un appello io voglio rivolgerlo ai miei concittadini. Guardate lì ci sono cartelli, ne avevamo messi 15 che sono stati letteralmente divelti. La gente porta a casa anche i cartelli. In quel luogo, finché non ci sarà l'ampliamento del servizio, del trasporto dei rifiuti, oggi non previsto, non certo per colpa di questa amministrazione, i rifiuti vanno portati di nuovo via, vanno rimessi in macchina e portati a casa o portati nei pressi del Buon Cammino, dove abbiamo proprio nelle settimane scorse provveduto a mettere non più un cassonetto, ma a riportarli all'origine tre cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Questo è stato l'impegno di questa amministrazione. Ma ci vuole un impegno un po' di tutti, dei miei concittadini. Guardate, non ci si può lamentare se poi le tasse aumentano. Il senso civico è importante e il senso civico in questa città manca. Come sensibilizzare? Attraverso, partiremo a breve con una campagna pubblicitaria che riguarderà il mese di giugno, lo abbiamo detto. Entreremo nelle scuole, ci saranno degli spot, probabilmente il sindaco scriverà a tutti gli altamurani, mandando una lettera casa per casa. C'è bisogno dell'impegno di tutti. Possiamo risparmiare soldi. Questa ulteriore spesa sarebbe potuta essere risparmiata e quei soldi messi a disposizione per il verde o per le strade. Non ci si può poi lamentare. Quello che abbiamo trovato il giorno dopo di Pasquetta, nel pulo o sulle aree circostanti, il pulo era qualcosa di vergognoso. Non sarebbe costato assolutamente nulla prendere quei rifiuti e rimetterli in macchina e portarli ad altamur. Cari concittadini, ve lo chiedo di cuore. Un impegno da parte di tutti. Qualche mese fa una bella associazione di volontariato aveva provveduto a ripulire il pulo. Non possiamo sempre chiedere. Dobbiamo dare anche noi l'esempio. Dobbiamo fare anche noi qualcosa. Qualcosa di importante. Grazie.